Il PDL deve fare un salto di qualità nel senso che deve fare delle scelte precise e queste scelte facendo i conti che in primo luogo bisogna respingere l'indegno attacco giudiziario che Berlusconi ha avuto nel corso di tutti questi anni e però nello stesso tempo bisogna fare i conti con la situazione che si profila. Lo scioglimento di questo noto può avvenire in due direzioni. Nella direzione che Berlusconi, il quale mantiene un ruolo di leadership e ha un sostegno nel nostro elettorato, designa Angelino Alfano come la persona più indicata non solo per fare oggi il Vice Presidente del Consiglio e il Segretario del Partito ma in prospettiva come la persona che si confronterà con il leader del centrosinistra nelle future elezioni. Questa secondo me è la via maestra. Se non arriviamo a questo risultato positivo che implicherebbe anche l'unità del partito è meglio invece che stare in una morta gora o in una situazione di conflittualità permanente avere il coraggio di far sì che il PDL da una parte con una impostazione più moderata e di sostegno al governo e per altro verso dall'altra parte una Forza Italia più movimentista avendo entrambi come punto di riferimento Berlusconi si misurino e poi evidentemente nelle elezioni realizzano tutte quelle convergenze possibili in modo tale anche in questo secondo caso di essere competitivi con il tipo di ristrutturazione che la sinistra sta avendo.